Sanità a palti alla famiglia Schiavone, il commissario ad acta frattura sospeso per quattro mesi le convenzioni al volontariato del 118, servizio di emergenza garantito dall'associazione Humanitas che fa capo alla nota famiglia Campana. Campobasso, la Montini non chiude, lo ha detto il sindaco Battista questa mattina in conferenza stampa, alla luce della relazione dell'Unimol, l'istituto scolastico del CEF, non presenta criticità a settembre, lezioni regolari. Sernia, la notte bianca dei borghi della lettura, un successo alla serata dedicata alla cultura, un incontro tra musica e letteratura che ha entusiasmato i cittadini. Nicola Crapsi, nuovi dettagli sulla sua vita, un libro di Massimiliano Marzilli, svela aspetti inediti della figura del sindacalista e politico molizzano. Mondiale in the street, successo a Boiano per la prima volta in Molise, il torneo 3 contro 3 di calcio da strada inserito nel Boiano Mundial, più di 45 le squadre iscritte. Edizione delle 14, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. La sanità in apertura, il commissario ad acta Paolo Frattura ha firmato una delibera che sospende per 4 mesi le convenzioni con le associazioni di volontariato che operano con il 118. Nel servizio di emergenza da qualche mese opera anche l'associazione Humanitas con sede a Salerno e che fa capo alla nota famiglia Schiavone. Intanto Paolo Frattura ha esternalizzato il servizio di reception affidato alla ditta Romeo e ha istituito la figura dei camminatori gestita dalla cooperativa CSS di Isernia. La macelleria sociale del governo regionale non conosce tregua neanche a Ferragosto. Dopo aver distrutto la sanità pubblica, la protezione civile e le aziende partecipate, senza creare alcuna alternativa a migliaia di lavoratori, nel mirino del commissario ad acta Paolo Frattura è finito ora il sistema del pronto intervento sanitario e quindi del 118. Nei giorni scorsi la struttura commissariale ha varato una delibera con la quale ha sospeso per 4 mesi le convenzioni con le associazioni di volontariato impegnate con il 118. 4 mesi durante i quali, secondo la delibera, si dovrebbero ricercare intese su nuove basi, ovvero, molto verosimilmente, ridurre i compensi ai volontari. Potrebbe essere un percorso normale, ma è d'obbligo porre un quesito nei quattro mesi di sospensione delle convenzioni. Chi collabora con il 118? Secondo i soliti ben informati, la decisione della struttura commissariale servirebbe a dare più spazio ai volontari sponsorizzati dai vertici della Chiesa locale e per accreditare una struttura con sede a Salerno che farebbe capo alla nota famiglia Schiavone. In più, con le future convenzioni si punterebbe ad eliminare la figura del soccorritore, lasciando solo l'autista come figura di volontariato. Alcune associazioni sono sul piede di guerra, ma restano in silenzio per timore di eventuali ripercussioni negative sul rinnovo delle convenzioni. Intanto, il senatore Ulisse Di Giacomo ha fatto sapere che Paolo Frattura ha esternalizzato il servizio di reception e di portierato che prevede l'utilizzo di 60 persone dato in appalto alla nota ditta Romeo, implicata nel caso Consip insieme a Tiziano Renzi, ed ha istituito il servizio dei camminatori, ovvero 40 persone gestite dalla cooperativa CSS di Sernia, impegnate solo per spostare le carte da un reparto all'altro. La cronica carenza di personale medico ed infermieristico, invece, avrebbe dovuto imporre altre scelte, ma si sa, la campagna elettorale è vicina e le manovre elettoralistiche si accentuano a scapito però degli ammalati. Poco importa se alla sede della Guardia Medica di Campomarino e al reparto cardiologia del Cardarelli i pazienti vengono colti da malore perché non funziona l'aria condizionata con temperature esterne che superano i 40 gradi. Insomma, la regione delle banane e dei papaveri trionfa sempre su tutto e su tutti. Continua lo stato di agitazione degli ex dipendenti della OTI di Sernia. Attualmente è ancora in corso davanti ai cancelli dell'ITR, mentre per le 17 è previsto l'incontro con il prefetto di una loro delegazione dei rappresentanti sindacali. E torniamo a parlare della morte di Pietro Pietrangelo Serino, il quarantenne di Guardia Reggia, trovato senza vita domenica sera a San Gregorio Matese. Ebbene, ci sono ancora degli aspetti che non convincono e a fare luce sulla vicenda saranno probabilmente i risultati dell'autopsia. Sentiamo. Cosa ha stroncato la vita di Pietrangelo Serino? Un malore improvviso, l'abuso di sostanze stupefacenti. E quando è morto il quarantenne di Guardia Reggia, che nella notte tra giovedì e venerdì ha fatto perdere le sue tracce, a queste domande risponderanno l'autopsia e l'esame tossicologico effettuati ieri a Caserta dal medico legale nominato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capuavetere, che sul caso ha aperto un'inchiesta. Domande cui l'ispezione cadaverica, effettuata nell'immediatezza del ritrovamento del cadavere, non ha saputo dare risposte. Il corpo di Pietrangelo, Pietro per gli amici, è stato ritrovato domenica sera intorno alle 21, in località Miralago, in territorio di San Gregorio Matese, a circa tre chilometri dal punto in cui aveva lasciato la sua Opel Corsa. Era diverso a terra, in stato di decomposizione, complice il gran caldo. Nessun segno di violenza, nessuna presenza di sostanze stupefacenti o farmaci, nulla che possa far pensare al suicidio, la pista meno percorribile al momento, con l'ipotesi malore in primo piano. Comunque non si esclude nulla, gli inquirenti confidano nell'esame autoptico, i carabinieri sono al lavoro. Oggi intanto a Guardia Reggia l'ultimo saluto al quarantenne, voluto bene da tutti e apparentemente senza alcun problema, lavorativo o familiare. Il classico bravo ragazzo, lavoratore modello, attaccato alla famiglia e senza grilli per la testa. L'8 agosto 1956 resta una data impressa nella memoria dei molisani, nonché nella storia dell'emigrazione. A Marsinelli, in Belgio, in una miniera di carbone, morirono 136 italiani, 7 erano molisani, liberato Palmieri di Busso, Francesco e Michele Granata e Michele Moliterno di Ferrazzano, Felice Casciato e Francesco Cicoria di San Giuliano di Puglia e Pasquale Nardacchione di San Giuliano del Sannio. Cambiamo argomento, conferenza stampa questa mattina al comune di Campobasso del sindaco Antonio Battista per parlare di edilizia scolastica, in particolare per annunciare che la relazione dell'Unimol ultimata e dopo verifiche eseguite si è deciso che la scuola Montini del CEP non chiuderà e dunque garantirà un normale anno scolastico. Sentiamo. Emergenza scuole a Campobasso si lavora alle relazioni tecniche che mano a mano giungono sul tavolo del sindaco da parte dell'equip Unimol coordinata dal professore Carlo Callari. e dunque assieme alle relazioni anche i relativi atti finalizzati a garantire la sicurezza degli studenti, dei docenti e non. La Montini resterà aperta anche per il prossimo anno scolastico stando le indicazioni che abbiamo ricevuto e gli studi che stiamo verificando. Continueranno i lavori per adeguarla? Continueranno i lavori che abbiamo già programmato, se sarà necessario ne faremo anche degli altri, quindi non ci fermiamo qui, anzi metteremo in bilancio risorse anche per capire come procedere successivamente. Ma voglio anche segnalare che comunque sul polo di Via Crispi, sul polo del quartiere CEP, sul polo Vazieri, Legacy Petrone Don Milani e sul polo Mascione, l'anno prossimo inizieremo nuove costruzioni. Per quanto riguarda San Giovannello il progetto è più ampio, però c'è un accordo di programma concluso. Il progetto è ampio su tutti e quattro i poli didattici. Ovviamente andremo a calibrare secondo le necessità dei quartieri, perché per noi è vitale che le scuole restino sui quartieri. È importante che il sistema educativo faccia perno sulle nostre famiglie, sul vicinato e vada oltre l'educazione dei bimbi, inteso come formazione didattica, ma prenda anche la sfera sociale. Per noi le scuole, gli insegnanti che svolgono il lavoro presso le nostre scuole sono una risorsa fantastica che dobbiamo tutelare. I prossimi studi in arrivo? Ci saranno quelli relativi a Via Roma, Via Jezza, Via Crispi, quindi avremo anche altri studi sui quali andremo a prendere dei provvedimenti con la dovuta, legittima, doverosa trasparenza con vero spirito di servizi nei confronti della città che stiamo servendo. Il prossimo anno dunque il sindaco e la sua amministrazione vogliono mettere la prima pietra per la realizzazione dei poli scolastici in programma che riguardano Vazzieri e il CEP. E mentre si attendono gli studi relativi agli istituti di Via Jezza, Via Roma e Via Crispi e dopo aver stabilito categoricamente che l'Istituto Montini non chiuderà i cancelli ma con i necessari lavori garantirà il normale anno scolastico, stamane il primo cittadino ha anche puntualizzato che per gli studenti della Don Milani restano confermate le opzioni di smistamento delle classi fra il liceo artistico e l'Unimol e per la scuola di Mascione invece si starebbe fra le altre cose valutando tecnicamente e strutturalmente la possibilità di un privato che ha messo a disposizione una struttura di circa 250 metri quadrati in loco. Sono state almeno mille le domande presentate in Molise da aspiranti docenti che hanno chiesto di essere inseriti per le supplenze brevi e temporanee nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia. Tutta la procedura è stata farraginosa e poco funzionale, fa presente la CGL Scuola. Lo ripetiamo da anni, le domande dovrebbero essere gestite dall'ambito territoriale e provinciale per una valutazione univoca, si legge nel comunicato. Altri problemi ci sono stati nei giorni scorsi quando gli aspiranti docenti hanno dovuto compilare online il modello B nel quale si indicano le scuole presso le quali si vuole essere inseriti per le supplenze. Una cooperativa di giovani con un'idea progettuale e imprenditoriale molto ambiziosa a valorizzare ed esportare il caratteristico fagiolo a confetto tipico, tipicità molisana di acqua viva di Isernia. Sentiamo in proposito Enzo Di Ghetà. L'idea è ambiziosa a valorizzare, far conoscere ed esportare il tradizionale tipico fagiolo bianco o a confetto di acqua viva di Isernia. Il progetto parte da un gruppo di giovani acquavivesi, tutti volenterosi, in genere laureati che hanno capito che tra le loro mani ci potrebbe essere un tesoro. Infatti il fagiolo a confetto di acqua viva è quanto di più buono il ricercato sulle tavole dei buongustai italiani. Un tipo di legume che è unico nel centro-sud di Italia, ha delle somiglianze con il fagiolo bianco di Isernia o murecine ed è altrettanto pregiato e ricercato. Attualmente viene venduto privatamente intorno ai 12 euro al chilo. Insomma, coltivarlo a livello di grandi numeri potrebbe dare delle belle soddisfazioni economiche a chi si avventura in un progetto del genere. Per questo l'idea dei giovani acquavivesi è quella di varare una cooperativa. Dal canto loro i primi passi sono già stati fatti, con l'utilizzazione di un vasto appezzamento di terra, ripulito, curato e irrigato, dove sono stati messi a dimora migliaia di semi. Un primo passo, perché il secondo dovrebbe essere l'acquisizione di una quindicina di ettari di terreno demaniale su cui far decollare a livello di grandi numeri la produzione del fagiolo a confetto. Una vera e propria prelibatezza, inserita anche dallo chef Rufo di Castelnuovo nei suoi menu alla prova del cuoco. Insomma, ci sono tutte le premesse per quel salto di qualità che dovrebbe, nel giro di pochi anni, portare il fagiolo bianco di acqua viva sulle tavole dei buongustai di tutto il mondo. E per questo i giovani acquavivesi si sono rivolti a Giovanni Venuto, che ha esperienza nell'export di prodotti tipici molisani. Il suo primo consiglio è stato quello di valorizzare il marchio e poi confezionarlo per l'esportazione in pacchetti da 250 grammi. Un'anfora che potrebbe risalire all'epoca dell'impero romano è stata recuperata in un garage dai carabinieri della compagnia di Termoli. La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha scoperto il manufatto di interesse storico in buono stato di conservazione. L'anfora sarà consegnata alla sovrintendenza per i necessari accertamenti tecnici. Ed ora andiamo ad Isernia, dove nella suggestiva cornice di Palazzo San Francesco si è svolto l'appuntamento con la notte bianca dei borghi della lettura. Vediamo com'è andata. Notte dei borghi della lettura Isernia nella suggestiva cornice del chiostro di Palazzo San Francesco. Al comune di Isernia è una serata dove musica, letterature d'arte si sono perfettamente coniugate tra loro in una simbiosi culturale d'altri tempi con la poetessa Marilena Ferrante che ha introdotto le melodie del tratturo spiegandone canovaccio e trama storica. Delle leggende curate da Mauro Gioielli, noto autore e scrittore, insomma esperto di cultura popolare e intervallate da musiche che comunque sono attinenti alle leggende molisane. Quindi è tutto, è un, diciamo, una mescolanza di ritmi, di suoni e di letteratura. Notevole come sempre la prestazione artistica della voce portante del tratturo, quel Mauro Gioielli che non finisce mai di stupire. nonostante l'età che avanza per tutti e anche per lui, la sua voce sembra aver fatto un patto col diavolo, adamantine squillante, decisamente unica. Abbiamo scelto certi tipi di interventi che si prestano al nostro repertorio, come quello di stasera, abbiamo già fatto alcune cose, continueremo, il prossimo appuntamento sarà a Cantalupo il 10, poi altre cose. Il tratturo, insomma, è indimenticabile e nessuno ci rinuncia. Beh sì, ormai sono 40 anni che proponiamo le nostre musiche, le nostre canzoni, continuano a chiamarci, è segno che il gruppo ha un gradimento, un gradimento del pubblico e credo anche di poter dire che rappresentiamo gran parte della musica etnica molisana, quindi è giusto così. Una serata resa possibile anche grazie alla disponibilità data dal Comune di Sernia, che ha offerto la location del Chiostro di Palazzo San Francesco, un vero e proprio teatro naturale. Assessore Pietrangelo, il Comune ha offerto a questa iniziativa culturale il Chiostro, insomma, a disposizione di queste manifestazioni? Assolutamente sì. È stata patrocinata dal Comune questa manifestazione organizzata appunto dai borghi della lettura e quindi questa notte bianca dei borghi della lettura l'abbiamo presa veramente a cuore e sono sicuramente delle manifestazioni molto importanti a cui ovviamente viene integrato il concerto del Tratturo, quindi borghi della lettura e musica, un binomio che si sposa assolutamente bene e che speriamo che il pubblico di Sernia possa apprezzare. E a proposito di lettura parliamo di un libro scritto sulla figura di Nicola Crapsi, sindacalista ed esponente di spicco della politica molissana, una rivisitazione che ne svela lati inediti. Anna Maria Di Matteo. Nicola Crapsi, nato a Santa Croce di Magliano nel 1899, morto a Roma nel 1965, fu sindaco socialista di Santa Croce e subito prima del fascismo e dirigente comunista negli anni della Seconda Guerra Mondiale e nell'Italia Repubblicana. Crapsi fu sindacalista della CGL per un lungo periodo ed il primo parlamentare nella storia del Molise. Una figura ricordata anche nel libro del professor Massimiliano Marzini che ne svela lati sconosciuti. Il libro è costruito il mio saggio contenuto nel volume curato da docenti dell'Università del Molise analizza la figura di Nicola Crapsi sulla base quindi di una documentazione in gran parte inedita reperita prevalentemente a Roma presso l'archivio del Partito Comunista presso quindi l'Istituto Gramsci oppure presso l'archivio centrale dello Stato e altri archivi insomma vengono evidenziate le luci e le ombre l'aspetto diciamo positivo di Nicola Crapsi è molto noto e in effetti viene messo tutto ciò in luce vi sono però anche degli aspetti negativi luci e ombre insomma traspaiono come ad esempio l'assenza dell'attività antifascista di Crapsi oppure ecco la lotta interna che fu combattuta con metodi non prettamente politici molto spesso ad esempio ai danni di Michele Fiorella o del dirigente e deputato Ferdinando Amiconi quindi siete giunti a queste conclusioni attraverso un lavoro certosino insomma particolarmente impegnativo è stato un lavoro la ricerca è durata anni e un lavoro senza dubbio molto paziente è davvero certosino e alla fine insomma ecco diciamo che non vengono negate le questioni positive legate a Crapsi prevalentemente che sono quelle che lo vedono dirigente del dirigente sindacale sotto il profilo politico invece è lì che si che trapelano insomma le maggiori criticità una figura dunque inedita di Crapsi tracciata nel libro il cui autore è pronto a confrontarsi con quanti non ne condividono l'impostazione nella suggestiva cornice del teatro Sannita di Pietrabbondante domani sera andrà in scena l'edipo re di Sofocle rappresentato dagli studenti del liceo Majorana Fascitelli una eccezionale occasione per i ragazzi che si sono dedicati con passione giovanile ad una interpretazione così impegnativa ma anche un motivo d'orgoglio per la scuola superiore Isernina per i suoi docenti e per la preside Lina Dinezza successo a Campomarino per la nuova mostra di Liliana Corfiati l'artista originaria del paese ha dedicato le opere al tema della Divina Commedia promuovendo anche una iniziativa di solidarietà con l'associazione Filitalia International dal Fabrizio Occhionero Immergere in una mostra d'arte un'opera letteraria di eccellenza come la Divina Commedia Liliana Corfiati si è ispirata al poema di Dante Alighieri al racconto fantastico del viaggio compiuto attraverso i tre regni dell'oltretomba l'inferno il purgatorio il paradiso uno scopo dichiarato dell'autore di riportare gli uomini sulla via del bene e della verità mediante la rappresentazione delle pene dei premi che attendono rispettivamente i peccatori e i buoni nella vita eterna la pittrice originaria di Campomarino ha allestito la mostra a Palazzo Norante in occasione dei festeggiamenti dedicati a Santa Cristina un'iniziativa molto apprezzata che ha confermato l'impegno e l'attenzione dell'artista per il paese dove sono presenti diversi murales realizzati in questi anni nel centro storico e in altri angoli del territorio il senso anagogico dell'opera ha spiegato Liliana Corfiati è proprio quello di individuare una via per arrivare alla felicità uscendo da uno stato di disordine e tristezza le opere della mostra saranno anche contenute in un libro che l'associazione Filitalia divulgherà negli Stati Uniti il cui di cavato sarà destinato a una borsa di studio dedicata agli studenti bisognosi e meritevoli firmata proprio dalla Corfiati presidente regionale dell'associazione che opera in tutto il mondo una mostra ricca di contenuti anche un messaggio di riflessione e solidarietà che ha rinnovato un progetto di promozione culturale e di crescita professionale apre oggi a Frosolone la mostra mercato dei prodotti artigianali e locali numerosi gli espositori che lungo il centro storico metteranno in mostra le loro opere e prelibatezze da venerdì 11 invece aprirà la 22esima edizione della mostra mercato nazionale delle forbici e dei coltelli e moltissime persone al club due miglia di Campomarino per un pomeriggio in compagnia di Rocco Siffredi vediamo come è andata con Manuela Iori estate nel vivo a Campomarino al club due miglia in particolare dove a rendere ancora più bollente un pomeriggio di agosto è stato Rocco Siffredi ospite del lido che si trova nella parte più a sud di Campomarino tra le caratteristiche dune fans in delirio per il porno divo italiano più conosciuto al mondo che si è subito buttato nella ressa regalando baci abbracci e fotoricordo a non finire tutti ma proprio tutti in fila per uno scatto con Rocco anche solo per stringergli la mano non solo ragazze ma anche tante donne di mezza età persino giovanissime tantissimi anche ragazzi che hanno voluto conoscere di persona il loro idolo confermando che la televisione e l'esperienza dell'isola dei famosi hanno sdoganato Siffredi dal ruolo di attore hard a tutti i costi e lo hanno fatto conoscere anche nella sua ironia e nella sua umanità solo e esclusivamente sono venuto da Foggia per osservare il mio idolo un'emozione incredibile e inspiegabile che ci siano anche le conigliette ci fa anche piacere non c'è vero già siete venuti apposta per lui? sì perché? è fantastico un sacco di eventi stanno facendo qui al Club 2 Miglia da quest'estate veniamo a tutte le feste sono venuta apposta c'è mia figlia che è tra le ragazze che faranno la sfilata e stiamo venuti a vederlo lei da dove viene? da Foggia le piace Rocco Siffredi? sì è un bell'uomo anche dal vivo io da Milano sei in vacanza qui? sono qua in vacanza Foggia Bari vi è piaciuto dal vivo? certo avete visto anche qualche suo film? no musica, champagne e tanto divertimento dunque a Lido di Campomarino con un Rocco Siffredi molto simpatico e disponibile con tutti e che ha lanciato anche messaggi importanti come quello dell'uso dei contraccettivi e del rispetto verso le donne ci sono ancora tabù sessuali in Italia? oh tanti troppi troppi purtroppo troppo ci siamo abituati alla violenza ci siamo abituati a tutto alla gente tagliata a pezzi in televisione quando si parla di sesso? tu prima hai dato un bel messaggio hai detto che le donne prima di tutto sono da rispettare ma fa parte della mia vita sarei anche io per io tutta la mia vita è stata legata alla donna purtroppo a volte noi perché facciamo dei film anche un po' estremi diamo l'impressione che le donne sono un po' dei pupazzi ma non è così sei stato dichiarato il vincitore morale dell'isola dei famosi rifaresti un'esperienza di quel tipo? io lo farei una volta all'anno tutti gli anni non due mesi è troppo ma un mese lo farei sempre proprio il ritiro fuori da tutto immerso nella natura io penso che è l'unica cosa reale che ci resta che tutto il resto sta diventando una saluto a te le molise perché siete vicini alla Bruzzesi quindi siamo molto uguali simili viva 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 questo popolo bello dovrei stare così torna a Bagnoli del Trigno il planta tour in notturna l'evento è in programma venerdì 11 agosto a partire dalle 20 c'è ancora tempo per iscriversi alla passeggiata sotto le stelle dedicata alla scoperta della natura tra piante officinali gust e cultura per la rappresentazione di Rosina e Marture e questa sera dalle 21 e 30 Montorio Nefrentani ventunesima edizione di noi artisti di questa terra l'evento coordinato da Antonio Molino prevede numerosi ospiti musicali e altre iniziative con riconoscimenti a personalità che si sono distinte in Italia e nel mondo sul palco tra gli altri Federica Carta del talent show Amici Manuel Petti con l'orchestra Mirko Casadei il chitarrista Flavio Sala l'attore Edoardo Siravo e i giovanissimi musicisti Cristian Pio e Massimiliano Nese e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale adesso vi lasciamo allo sport grazie per averci seguito buon pomeriggio grazie per averci seguito